Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video Quest'oggi come potete vedere siamo di nuovo su Fortnite con la gente più brutta che mi possa capitare Sinceramente non so come ho mandato l'altro video dato che sono passate tre ore dall'ultima registrazione E mi sono semplicemente cambiato maglietta Questa è professionalità Comunque quest'oggi andremo a provare la modalità esplosiva ad alto potenziale 2.3 Probabilmente faremo solo una partita tanto per provarla e poi passeremo alla semplice modalità a squadre Sono sempre accompagnati Aurelio, Brando e Salvo Niente ragazzi, detto questo direi di cominciare Però è bello sentirevi stare zitti quando faccio l'inca Io li ho bene veramente, mi scalda il cuore E' l'ansia da prestazione quando dovete far chiudere il canale a te E' cominciato a passare Regato, andiamo alle... dove cazzo andiamo? Acranarchici Ok, andiamo ad Acranarchici Io e Salvo abbiamo brutti ricordi di Acranarchici Ti ho salvato io una volta Andiamo a casa di Aurelio, regà Mi ricordo che da piccolo giocava con i maialini Bello, bello Vero Aurelio? Mi insultavo chiamando i d***i Un cocchio che c'è gente Io ho visto un'altra parte mi sono ticciato con un Aurelio Sapete che adesso farò il pozzo suicida? Fermo Aurelio Va bene che tu sei quello che bestemmia frugano nella spazzatura Però Quella è la mia identità segreta Minchia No, la tua identità segreta è Valeria Uzo Ah, quella è ancora più segreta Che vi ricordi Quando eravamo... Un po' di tretto Oh, fermi, regà Oh, c'è gente Ho notato Io mi prendo questa pozione scudo Minchia è la pozione rigenerante dello scudo Vabbè, mi aiuti niente Allora, ho il lancia uova Buono anche io Non capisco a cosa mi posso servire, però vabbè Comunque c'è altra gente Minchia le bende a sera a me servono Grazie Brando Se ne ha persino Occhio Però tu mi curi sempre a drop Ma io non ho un cazzo di armi, regà Avete lottato tutti No, son morto Ma no Cazzo Non rica, rica Mi fate partire il bestemmia Oh, c***o Shark Grazie Grazie, vai Brando No No Ok, andiamo Ok, andiamo Acri anarchici Ok, nuovo A casa mia Oppure andiamo in crocive del charpame Là è la seconda cassa di Aurelio Sai Si divide là Tra gli acri Tra l'ha fatto Lì e il charpame Giusto? Eh sì sì Andiamo quindi dove? A fare scippi No vabbè Andiamo in acri anarchici Dai Una persona Vabbè se è solo uno No, regà L'ammazziamo Se sono uno Stupriano in cima Ma siamo quattro E lui Stai a mezzo Boh Ha massacrato Ma cos'è questa violenza Che casa dei poveri Mamma mia Il lancia uova Lo odio Maggio C'ho il missile guidato Forse sai Io c'è il C4 Figa Lancia razzi Pozione scudo Altro lancia razzi Ok Io le munizioni le ho Però forse mi conviene Continuare a cercare Ho il C4 Ma anche io Minchia Brando Mi ha fatto prendere Un infarto Sembra un infarto Giusto Oh Ferraz 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 Aspetta Tieni Daccelo Grazie Ma tieni Le tue Ma non mi serve E tieni anche questo Visto che tutto è scarso Ah questo Mi piace Ma lo scarso Tu lo fichi in culo Esattamente Non lo salvo da solo Non parlo Povero salvo Guardalo com'è triste Perché avete asce Troppo il testo Ma da dove Voglio prendere salvo Ma non mi ha Aspetta Io lancio un po' di roba a caso Beh regalo Iniziamo a muoverci Sì va Quello va a fare A me servirebbero delle munizioni Però vabbè Sciallo Ah Ne ho tipo una stradante Sei da metà Bravo bravo Ancora Ancora Ti speravo Che pensavo Ne avessi di più Vabbè Sto scherzando Ovviamente Bravo re Comunque Io non vedo niente Allora Eh là Guardate guarda Che c'è qualcosa Sbaglio c'è uno Non c'è gente Dove La lago Mi spiegherà che c'è gente E un altro Non c'è nessuno Regalo Ero medici Tu medici Oferati Venico da me Aspetta un'azio Però c'è un lanciarazzi leggendari No Cazzo dico Un lancio uovo Con delle missili Quindi me li prendo No Non buttare missili guidato Allora Faccio Io faccio Altra punizione Io c'è lo so Prendi qua Oh gg Prendi questo scudo Dove sei? Qua Così tanto schifo? No io lo so Salvo è un butta materiali Schifo Che infamore Come altri 7 mesi di materiali Una merda 74 g di legno No prego Ed è pure povero Questo è il punto Che infami Ma boss Faccio un po' le case Andiamo a demolire le case Da breve albanesi Eh esatto Penso che verrò tipo Ucciso da qualche albanese Dove sto io Regalo Ah là c'è qualcuno Dove? Là non le vede delle scale? Eh Pazzo Sei liberto Ti faccio un muro per sicurezza Pacco bottiglio Ma lì non ci arrivano i radio Sì ci arrivano Il mio non ci arrivano Il mio sì Perché il mio speciale E questa è la potenza dei soldi Ma è la potenza dello youtube No raga io non Dobbiamo avvicinarci Guarda Salvo Prondo Ma sapete che si può fare semplicemente così? Guarda Oh raga guardate quel porco di salvo là dietro Ok farò Signor Faro Che voi costruite dai Oppure che vedremo tutti quanti brutalmente ammazzati Non è vero Che comunque Qua c'è stato Raga mi hai fatto Niente di colpi Quando sparatestemi a caso Ah se ne sono andati Non c'è nessuno Sì 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 Ve l'ho visto un ponte Verso la città Ma Salvo che cazzo Dove è? Vabbè raga intanto buttiamoci qua Andiamo Che bello cam... Ma guarda Aurelion fa... Ecco bravo Insieme a me Come a sguazzare nell'acqua O come quando facevi da piccolo Questo non è altro E sperma di toro Raga dobbiamo andare verso lì E' tutto distrutto e io apro la porta Raga raga Non c'è niente tanto Se lo sono presi Dobbiamo andarci Ascoltatemi Iniziamo ad avanzare al centro Dai che ci stiamo giocando tutti ai 6 E ci faranno il culo me lo sento Io di solito gioco nascondendovi su Per le scale delle case Ma tu prendo Se è alto E' un capo sfasciato Raga ma se venite magari Che sto costruendo Se tu stai costruendo Salvo sopra le testa Ma in tutto ciò Finite i materiali Che si fa Ok sta costruendo i mattoni Che fatto Raga mi dovete far tagliare Per forza troppe cose Ah la tempesta sta arrivando Mortacci Guarda salvo Zitto zitto Che costruisce Da bravo schiavo Arrivo ragazzi Amici ci stanno sparando Ci stanno sparando? Sì Ma l'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Cazzo No cazzo Sono morto No 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 Da ma figlio di puttana Dai Aurelio Dai Aurelio Che fanno E' vero Aurelio Aurelio Benissimo Ci siamo spinti Tanto in avanti Però Siamo stati asfaltati In realtà Sta modalità È abbastanza rischiosa Colpa di Brando Sempre Comunque Comunque ragazzi Supportate al massimo Questa serie Lasciando un'inizio Al video Commentandole Condividendolo Con i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora avete fatto Aggiungere la campanella Per avere tutte le notifiche Di qualità dei video Entrate nel gruppo Telegram E nel gruppo Discord Che trovate qua sotto In descrizione Inoltre seguitemi Sia su Instagram Sia su Facebook Dove io Insieme ad alcuni fan Pubblico dei aggiornamenti Riguardo al canale Niente ragazzi Iscrivetevi al Patreon Giusto Iscrivetevi al Patreon Niente ragazzi Ringrazio Aurelio Brando E Salvo Di aver fatto schifo Insieme a me E noi ci vediamo In un prossimo video In una prossima live Un saluto alla Ferraz Brando Aurelio E Salvo Bella Bella raga Sono Alessandro Borghese Munizzeru no Baby But Mada Amin' Anun ahi Min suspected Anun icon Anun Yaguchi